Gentili telespettatori, buona giornata. I servizi, l'intelligence italiana parla di una prossima stagione di odio contro Giorgia Meloni. Quelli che si definiscono antifascisti, che in realtà non lo sono, si preparano a contestare il governo Meloni su qualsiasi cosa anche non vera, anche su supposizioni, illazioni. Non so se avete visto le proteste per la difesa della legge 194 che nessuno vuole cambiare. E' andata anche la Boldrini a protestare, l'hanno mandata via dicendo ma tu chi sei, mica ci rappresenti, vai via. Quindi hanno fatto delle proteste per la legge 194, hanno cacciato via la Boldrini dicendo vai via, tu non ci rappresenti, chi sei, cosa vuoi, ma la protesta non ha nessun fondamento perché non c'è nessuno che vuole toccare la legge 194, stanno protestando sul nulla. Quindi i servizi di intelligence italiane stanno monitorando quelle aree di eversione interna che potrebbe trarre spunto nella contestazione alla neonata maggioranza di centrodestra, sfruttando la finta propaganda antifascista per tornare a occupare le piazze e alzare la tensione sociale. Avete visto l'occupazione del liceo Manzoni a Milano anche quello senza nessun senso, come le proteste per la legge 194 che nessuno vuole toccare, quindi delle proteste senza motivo, anche quelle al liceo Manzoni a Milano sono delle proteste senza motivo. Protestano e occupano la scuola perché siamo entrati in un governo repressivo, in un momento politico repressivo. Dice ma quali sono queste repressioni? Nessuno, semplicemente non esiste, non esiste una situazione repressiva, non esiste nessuno che vuole toccare la legge 194, stanno cominciando delle proteste sul nulla, sul niente. Avete visto una campagna elettorale di una sinistra basata sul nulla eterno, sono un pericolo per la democrazia, ma in realtà era tutta fuffa. Naturalmente la sinistra ha aizzato gente che poi va a fare delle proteste che non hanno nessun tipo di fondamento. Perché protesti? Non sanno rispondere. Oppure dicono delle cose che non sono reali. Nessuno tocchi la legge 190, ma nessuno la vuole toccare. Sì sì ma nessuno la tocchi. Sì ma nessuno la vuole toccare. Sì 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 ma nessuno la tocchi. E le proteste al liceo? Occupiamo il liceo perché? Perché democraticamente ha vinto un'area politica? Quindi quelli che dicono di essere democratici non accettano le dinamiche di una democrazia. Nel senso o vinciamo noi oppure non c'è democrazia. Avete capito il totalitarismo, l'intolleranza dalle parti della sinistra? Se vinciamo noi va bene tutto democratico, se vincono gli altri è contro la democrazia, cominciano le repressioni. Tutto completamente campato per aria. Martedì a Roma nel quartiere Tuffello, storica roccaforte di estrema sinistra, è apparso un manifesto contro Giorgia Melonico, scritto Giorgia il Tuffello ti disprezza. Quindi poi queste frange di sinistra parlano a nome di interi quartieri, di città. Diceva Tuffello ti disprezza, sarete voi che la disprezzate, ma Tuffello è una parte di Roma che per la maggioranza ha votato Giorgia Meloni. Giusto per farci capire queste frange di sinistra come interpretano la democrazia. Tuffello ti disprezza. Voi la disprezzate, non Tuffello. Ma anche in altri quartieri, non solo a Roma, le scritte inneggianti contro Giorgia Meloni, il governo da abbattere, sono state rinvenute nei pressi di sede dei partiti della maggioranza. Il livello ancora, parlano i servizi di intelligence, non è ancora alto, ma stiamo monitorando con estrema attenzione. Le informative però circolerebbero già da qualche settimana su input appunto degli agenti dei servizi segreti. Su alcuni siti d'area, già nei primi giorni di settembre, sono apparsi articoli finiti sotto la lente di ingrandimento proprio dei servizi segreti. In uno di questi si auspicava l'astensione al voto il 25 settembre come inizio della protesta. Quindi prima delle elezioni, cioè prima della tornata elettorale dove si esprime la democrazia, già prima di poter esprimere la democrazia c'era già il non andiamo a votare, quindi già protestiamo perché se le elezioni democratiche portano democraticamente a vincere non accertare non andiamo neanche a votare. Capite la ritorsione mentale di queste cose, mentre la scorsa settimana su alcuni profili Facebook è stato pubblicato un post contro la polizia che ha effettuato alcune perquisizioni dopo l'attacco ai banchetti elettorali di Fratelli d'Italia. Quindi la polizia diventa cattiva perché va a indagare su chi ha tentato di distruggere i banchetti elettorali di Fratelli d'Italia. Siamo addirittura al ribaltamento della realtà, cioè persone che sono contro la polizia perché indagano su atti fatti da persone poco democratiche. Siamo completamente al cambio di paradigma. È evidente come dai piani alti della politica si siano mosse pressioni ben accolte dalle questure secondo questi gruppi. Il messaggio è sempre più chiaro, qualsiasi forma di iniziativa di contestazione che esca dalle logiche del teatrino elettorale democratico va stroncata sul nascere. Così, secondo i servizi, questi gruppi andranno a fare delle proteste campate per aria, proteste come quelle che abbiamo visto per la legge, proteste senza motivazione per cercare uno scontro con la polizia per poi dire che questa è la polizia che utilizza il centrodestra totalitario. Avete capito? Tutta la macchinazione di un'area politica che non riesce democraticamente a vincere le elezioni perché è inconsistente. E l'inconsistenza si trasforma in queste cose. E poi così il mondo degli antagonisti, centri sociali e queste cose qua, potrebbe trovare motivazione e linfa per tornare in piazza. Viene sottolineato appunto dall'intelligence nell'ultima relazione presentata al Parlamento. Scrivono così i servizi italiani il movimento antagonista, pur mantenendo una presenza in parte marginale nelle proteste di piazza contro le misure governative di contenimento dei contagi, in continua ricerca di spunti aggregativi non ha mancato di considerare come la sensibile congiuntura abbia aperto favorevoli spazi di ricomposizione politica all'eterogenee e tradizionalmente frammentate componenti del dissenso. Tra i temi che potrebbero favorire una ripresa delle contestazioni al nuovo governo, quelle legate all'ambiente e il sostegno ai migranti, oltre all'antimilitarismo, disagio sociale, crisi internazionale, carovita. Già a inizio anno infatti l'intelligence metteva in guardia sulla rinnovata centralità dell'agenda antagonista. Grazie a tutti e arrivederci.